No, non parlo del bar dove ci si trova come le star a bere dei whisky, c'è un appi davanti e parliamo di reti, ma a volte per affrontare le reti c'è bisogno di avere un po' di alcol in corpo, su questo non c'è dubbio, l'alcol fa male anche poco, questo non scordatevelo mai. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti. con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Sicuramente vi sarà capitato di girovagare nelle impostazioni del browser e vi sarete imbattuti nelle impostazioni del proxy, appurato che non è il bar del browser. Di che cosa stiamo parlando? Il proxy lo possiamo definire come un servizio di uscita verso internet che assolve a diversi scopi. In molte reti aziendali i computer, pur passando attraverso il gateway della rete, non hanno accesso alla navigazione internet. Per poter navigare devono passare obbligatoriamente attraverso il proxy. Questo server decide chi può andare dove, come un content filtering e fa anche da cache per limitare la banda in uso dall'azienda e velocizzare la navigazione. Un esempio banale, se tutti usano Google come pagina iniziale, lui memorizza il logo di Google al suo interno e per ogni PC aziendale che chiede la home del motore di ricerca, provvederà lui a fornire l'immagine a tutti i computer che la chiedono senza doverla scaricare tutte le singole volte. Per motivi abbastanza chiari, ogni tanto controlla che l'immagine non sia cambiata sul server originale. Ovviamente sul proxy c'è il log di chi va dove, ma un servizio proxy potete cercare persino voi per la vostra navigazione personale, ve lo configurate e tutta la navigazione, al posto di uscire direttamente dal vostro IP pubblico, passerà dal proxy e da questo arriverà ai server che volete raggiungere. Un po' come una specie di VPN, così che i server raggiunti non sappiano qual è il vostro indirizzo IP della rete di casa vostra. Se lo impostate per tutti i PC di casa o per la vostra azienda, farà come detto da cache e velocizzerà leggermente la navigazione. Insomma, ha un suo scopo utile e non solo per fare la parte cattiva e bloccare i vari siti. Potrebbe persino tornare comodo, attenzione, se la vostra connessione non permette l'accesso a certi siti, passate per il proxy e il blocco viene aggirato. L'attività di filtro della navigazione è diverso da quello che si può fare con un filtro su DNS come PIOl o NextDNS. Lui può lavorare direttamente sui nomi dei domini e bloccare parti di un sito e non solo il totale sito, bloccandone la risoluzione del nome. Esiste poi un secondo tipo di proxy che si chiama reverse proxy. Questo a fronte di un problema è difficile e più semplice di quello che si possa pensare. Invece di mettersi davanti al client e in qualche modo proteggerli o limitarli, si mette davanti ai server che i clienti vogliono contattare. Se volete raggiungere un certo servizio e questo è pubblicato con un reverse proxy davanti, voi vedrete solo il reverse proxy che poi girerà il traffico verso il server vero che è nascosto dietro. Oppure ai server che sono dietro, facendo bilanciamento del carico. Se dovete fare un server web con un vostro sistema, è saggio metterci un reverse proxy davanti. Se non sapete come fare, contrattate Gianluca di Zerdaik, che ospita il sito di PIL di Bit, e vi saprà dare sicuramente una mano sul suo operato, ci metto la mano sul fuoco. È un servizio professionale e ovviamente vi fa la fattura. Ma un reverse proxy potete provarlo anche per casa vostra, in modo facile e gratuito. Basta avere un server o un servizio ad esporre e un dominio. Per fare questo potete appoggiarvi al servizio gratuito di reverse proxy e tunneling di Cloudflare. No, non è sponsorizzato, è solo una cosa informativa. Non vi fornisco tutti i dettagli operativi, ma vi lascio un video su YouTube fatto molto bene, con un tipo un po' matto ma molto simpatico, che vi spiega passo a passo come si fa tutto. In pratica, registrando il vostro dominio su Cloudflare, decidendo un terzo livello, invento, HTTPS, Linux, PIL di Bit, punto prima, delete, posso fare in modo che le chiamate verso quell'URL vengano radirette verso il mio computer Linux che ho a casa, su una porta che decido io, come la 80 o la 443. Per fare in modo che il mio PC possa essere raggiunto passando da Cloudflare, non devo aprire nessuna porta sul router e pertanto funziona anche se siete con connessioni che non hanno un IP pubblico, siete dietro a un NAT o altre cose difficili di questo tipo. Dovete installare all'interno della vostra rete il software che vi fornisce Cloudflare e fare le due configurazioni che servono, ma sono davvero proprio due. Viene così installato il tunnel tra il vostro PC e il servizio che espone il vostro server. Voi raggiungete il dominio e lui vi butta sul vostro PC, ovunque esso sia, senza rivelare al mondo effettivamente dove sta. Figo, eh? Ma ricordatevi che avete comunque esposto su internet un pezzo della vostra rete. State attenti anche se tra la rete di casa e internet c'è Cloudflare in mezzo, che è sempre una garanzia anche con i servizi base. Vi filtrerà gli attacchi standard, potete decidere da che nazioni ricevere le chiamate e altre cose di questo tipo. Stranamente rispetto alle ultime è una puntata un po' più corta del solito, finalmente una vera pillola. Ma così potete aprire Cloudflare e fare qualche esperimento. Pillole di Bit è un podcast indipendente, interamente scritto, prodotto e realizzato da Francesco Tucci, con l'indispensabile supporto dell'hosting Ferdai e il software di montaggio audio producer di Alex Racuglia. Lo potete ascoltare da tutte le piattaforme di podcast il lunedì o direttamente sul sito Pillole di Bit col punto Prima del Lit. Se vi serve una consulenza tecnica e informatica fatturata su iltucci.com slash consulenza, trovate tutte le informazioni. Just show me the money. I ringraziamenti per le donazioni di questa puntata vanno a Edoardo, Giovanni e Giorgio con i loro abbonamenti mensili. Poi a Alessandro, Rocco e Davide. Per essere nominati in puntata è sufficiente fare una donazione a supporto del podcast. Tutte le informazioni le trovate nelle note dell'episodio o direttamente sul sito. Con donazioni da 5 euro in su, compriate il form che c'è sul sito e vi spedisco gli adesivi, il magneto per il frigo o il portachiavi. Per contribuire potete anche usare i link sponsorizzati di Amazon o di AI Web, sono sempre sul sito. Spargete la voce e portate sempre nuovi ascoltatori al podcast, anche questo è importante. Grazie a tutti voi che ascoltate e che contribuite, ve ne sono davvero grato. Mi informo inoltre che sono stato ospite in una lunghissima puntata di Easy Apple con Federico, uno dei due conduttori del podcast. Abbiamo parlato di come è nato Pidole di Bit, come preparo le singole puntate, abbiamo parlato di backup, di autenticazione a due fattori e di molte altre cose. E direi cose parecchio interessanti. Vi lascio il link alla puntata 601 di Easy Apple nelle note dell'episodio e vi consiglio ovviamente di iscrivervi al loro feed, anche se non avete roba Apple, si scoprono sempre cose interessanti. Un'ultima novità, poi basta. La mail ufficiale del podcast è cambiata. Adesso quella nuova è su un dominio personale ed è molto più corta. pdb-tucci.bu pdb come pillole di bit, la chiocciola, tucci come il mio cognome e bu come il verso per sperimentare qualcuno, Bologna, Otranto, Otranto. Ma come al solito, trovate tutto nelle note dell'episodio. Per chi continua a usare Twitter e ancora non è scappato, si può fare in modo di non vedere le pubblicità usando l'interfaccia via web. Basta installare nel proprio browser l'estensione uBlock Origin, normalmente usata per bloccare le varie pubblicità, e poi mettere il filtro personalizzato che vi lascio in descrizione, fatto dall'amico Andrea Lazzarotto, che funziona benissimo. Grazie a Andrea e buon Twitter senza pubblicità per voi. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Pillole di Bit. Le note e i link citati sono su www.pilloledibit.com.primadelite.podcast.264 L'archivio delle puntate è slash indice. Ci si abbonate al podcast tramite feed rss o cercando Pillole di Bit su qualsiasi app per la riproduzione podcast. Io sono Francesco e vi do appuntamento alla prossima puntata lunedì prossimo. Ciao ciao!